La Camera di Commercio di Arezzo si conferma al fianco della Fiera dell'Antiquariato con una nuova convenzione pari a circa 30.000 euro per il rilancio della manifestazione aretina. È fondamentale anche perché oggi sulla Fiera dell'Antiquari investe il Comune e Camera di Commercio in un'attività che comunque deve rinascere, quindi stiamo lavorando tantissimo in ottica 2018, quindi già nel 2017 ci saranno tante novità, è ovvio che è fondamentale oggi avere comunque delle risorse per poter investire in marketing e comunicazione. Quindi anche quest'anno la Camera di Commercio ci aiuta, investiremo tantissimo anche sui social che comunque è uno strumento oggi che funziona molto bene, investiremo in due ambiti, uno per portare visitatori, quindi turisti, l'altro per portare espositori perché vogliamo da qui a 2018 ripopolare comunque anche la Fiera, soprattutto anche in chiave di qualità e quindi cercare di riportare ad Arezzo magari Antiquari che vengono un po' da tutta Italia e grazie a questo abbiamo anche inserito una nuova regola sul suolo pubblico, sul nuovo regolamento e che per tradizioni un nuovo espositore potrà stare ad Arezzo per provare la Fiera Antiquari e quindi sperare che poi rimanga in futuro. Senta la luce? Gli vediamo o no? Sulla luce tanto che ci lavoro però non è molto facile anche perché il percorso è molto variegato in centro storico quindi con un sacco di limiti anche per fare lavori strutturali, quindi ora testeremo a dicembre degli esperimenti diversi, quindi non di portare la corrente fisica con il cavo però di utilizzare dei nuovi sistemi comunque a batteria, quindi vediamo se funziona, potrebbe essere l'occasione per ovviamente tenere i banchi aperti per più tempo soprattutto nel periodo invernale. Per ricordare che negli ultimi dieci anni Camera di Commercio ha supportato finanzieramente la Fiera Antiquaria con circa quasi 300 mila euro, riconfermiamo per l'anno in corso un'ulteriore convenzione importante da un punto di vista finanziario perché siamo consapevoli che Fiera Antiquaria direi anche insieme al Saracino sono i due pilastri, i due grandi eventi straordinari capaci di attrarre turisti e un volano di promozione economica e ancora turistica straordinaria per la città. Grazie.